Se mi date un secondo guardate il mio business plan, vedrete ciò che vedo io. Cioè soldi, non i nostri. Avevo perso la macchina, avevo perso la casa, avevo perso tutto. Mike Acosta. Di che parliamo? Ho fatto un sogno. Ero qui, in Indonesia. È qui che troveremo l'oro. Kenny, guarda. Abbiamo trovato l'oro. L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato! Abbiamo trovato l'oro! È seduto sulla più grande miniera d'oro del decennio. Parliamo di oltre 30 miliardi di dollari. Sì, avviva! La miniera Washoe è l'argomento del giorno. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, di solito è così. Le vedi queste mani? Io le userò per seppellirti. Che cosa hai combinato? Tutto a un prezzo. Chiamo dell'FBI! Che lo volessimo o no, l'ascesa verso l'alto era cominciata. E che vertigini ci dava! Che cosa hai combinato? 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 Che cosa hai combinato?